Oggi è domenica 5 aprile 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 5 aprile 1816. L'inventore tedesco Karl Dreiss presenta la sua macchina per correre che, prendendo spunto dal suo nome, chiama Draissina. Si tratta di una struttura in legno che tiene insieme due ruote, anch'esse di legno, con otto raggi ciascuna, con l'anteriore collegata a un manubrio mobile per la direzionalità. Il veicolo avanza e frena grazie alla spinta dei piedi sul terreno. È considerata l'antenata della bicicletta, simile ad essa ma senza pedali. Nelle intenzioni del suo inventore, la Dreissina avrebbe dovuto sostituire il cavallo, consentendo risparmio di costi e ampliando quindi la possibilità di trasporto a una più larga fetta della popolazione. Infatti, Dreiss, nonostante abbia il titolo nobiliare di barone, è un fervente democratico, tanto che non usa il suo nome completo, von Sauerbronn. Il 12 luglio 1817 è documentato il suo primo viaggio a bordo del suo veicolo, da Mannheim a Svetzingen e ritorno per 28 chilometri. Successivamente compie un altro viaggio da Gensbach a Baden-Baden e poi da Karlsruhe a Kelle, su un percorso totale di 78 chilometri. Nonostante le speranze del suo inventore, la Dreissina diviene solo un mezzo per il puro divertimento, usato da giovani borghesi e aristocratici. In Inghilterra il mezzo viene chiamato Cavallo del Divertimento. Nel 1849, Dreiss rinuncia al suo titolo nobiliare e alla particella von del cognome. Dopo il fallimento della rivoluzione borghese di quegli anni, i realisti tentano di farlo dichiarare malato di mente e di farlo internare. Gli viene confiscata la pensione e così Dreiss, a 66 anni, nel 1851, muore in povertà. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.